Tremosifoni spenti negli uffici della Lavecchia dell'ospedale di Sulmona a causa dei trasferimenti per l'avvio dei lavori nell'Ala Bolino finanziati con i fondi PNRR, i dipendenti che lavorano nell'ex pronto soccorso sono rimasti al gelo dal momento che nelle scorse settimane sono state scollegate le varie utenze, compresi i rilevatori marcatempo. Un disagio che doveva durare qualche giorno ma che persiste a distanza di tempo costringe personale della direzione sanitaria e amministrativa a fare conti con le rigide temperature della stagione. È un problema, ammette il direttore sanitario dell'ospedale di Sulmona Maurizio Masciulli, secondo il quale a breve sarà completato il trasferimento. Nel frattempo ci stiamo dotando di altri dispositivi elettrici per far fronte alla situazione, aggiunge Masciulli. Nella Lavecchia lavorano anche i dipendenti del centralino e quelli dell'assistenza domiciliare.